Ciao a tutti ragazzi dal vostro The Next Mad Gamer di ritorno con la serie di The Witcher 3 Wild Hunt con il terzo episodio in questo episodio cosa si vedrà? si vedrà lo scontro con niente poco di meno che il grifone quel bastardo grifone che sta ammazzando mezza città e diciamo abbiamo iniziato il gioco in cui ci troviamo adesso bene vedremo di fargli male speriamo che non ci uccida che faccio una brutta figura anche perché non sono molto ferrato ancora con il sistema di combattimento di questo gioco che comunque non è difficile da comprendere però me ci devo ancora abituare bene l'ennesimo video introduttivo che l'ho visto mille volte bene partiamo aggrappiamo il cavallo che si inceppa qui con gli alberi dai su parti niente e si inceppa il personaggio ottimo corriamo che pure vicina come cosa come destinazione 57 piedi buono smontiamo da cavallo bella l'animazione che non toccavo neanche il cavallo per scende benissimo proprio parliamo con Vesemir ok quello che è sambriaco da dietro spettacolo quello che barcolla da dietro no guarda mi sento male ok c'avevo il rosmarino capo carne putrefatta sterco fish bello mamma ora devo pure pranzare bella guarda ok abbiamo trovato informazioni sul grifone è un uomo aveva 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 un uomo è sempre lo stesso invece di mandare per un profession si l'hanno fatto un cazzà gli hanno ammazzato la compagna che bene se tutto è pronto diciamo la parola e avremo a lavorare eh dai iniziamo subito spero che ci sia bisogno di niente di speciale perchè cioè siamo all'inizio non penso che abbiamo mancato qualcosa spero eh poi ripeto se ho mancato qualcosa commentate se c'è qualcosa nei dintorni di interessante che vale la pena prendere sicuramente eh la pozione tuono alchimia bello alcol est alcol test e mi mancano i cosi aaaah dove che è quella una noce che cazzo è frutto di balissa bottiglia vuota niente non la potremmo fa' è inutile che vedete ah no eccola ce l'abbiamo ce l'abbiamo ok inventario eccola qua la nostra pozione vaffanculo no non me la doleva qualcosa leviamo il pane che c'ha una durata minore no ho capito mamma mia che caga cazzo si il pane cura per 5 secondi e quella cura per 10 bene siamo pronti abbiamo equipaggiato la pozione quindi penso che che sia che sia che il grifone sia debole a all'elemento duono se c'è da pozione duono la logica mi suggerisce questo magari in ciazzecca un cazzo però vedremo andiamo a far culo a a sto gatto troppo cresciuto beh i sottotitoli dai evesemir eh certo sto pronto e vedete come si usa la balestra che è una cosa bella mi mi intriga sta cosa qua ma è proprio dislessia portami via un po' 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 sì e' quello che mi preoccupa mi gli ove guardi si tratta il pontar in l'est lo metano magari un'amera da Caramorhen se si tracano la valle prima che il snu possa coprire le passi beh bisogna coprire i nostri tratti e scendere i nostri passi parlando del vento e del vento pensi che tu avrai questo anno? magari potresti portare un gas questa comesca abbiamo creato un agnello artificiale bello qua al posto dell'occhio due bottoni molto credibili vabbè per un animale eccolo va siamo arrivati al punto cruciale della prima missione prima vera missione ecco la balestra ecco perché non sapevo come si usava perché ancora non ce l'avevo gioco d'azzardo bene bene te ci giochi in casa e no eh no eh beh stiamo giocando è stato stupido ce l'avevo detto te ecco qua che spettacolo come se usa la cosa mortacci tua a balestra eccola si ma come fa mortacci tua non l'ho preso me sa vaffanculo sta per tuffarsi ho capito eh cazzo eccolo eccolo corri vaffanculo eccolo menamogli cazzo mi ricorda tanto bloodborne pezzo di merda intanto ci ha dato una una botta che ci ha rincoglionito oh uh liscio come va no affan bene stavo a sparare la balestra ho schivato caci tu abbastardo sono un coglione me ne so corto c'è ne sei un occhio del varco eh eh bell'impegnativi scontri eh finiscio eh no chiedo eccolo viamolo dietro le spalle oh è a volare eccolo eccolo che ho letto durante un caricamento che ti dai consigli insomma ah se ne sta scappando mortacci su monta su sto cavallo niente non ci vuole monta' vabbè perchè devo usare i sensi da witcher se me lo segna sulla mini mappa intelligenti eh mo magari devo andare line da capo eh blocchi scommi da sto cavallo da merda oh 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 ah ci sfidua sbaglio il tempo delle oh Ma davvero posso usare himni, vediamo un po' dove sta himni, usiamo questo. Ah, i segni se... Oh, mortacci tua! Boh, che m'ha fatto? No, clamoroso. Oh, no, le, le, le. Dove cazzo stai in... ecco. No, non me... non me lo fa usare. Mena, mena, mena! Via, via! Oh, oh, oh! Vano, che casco! Faccio un bel botto. E' rimasto due dei pani. Viscio. Dove sta? Ottimo. Bella prova. Oddio, eh, me sta... M'ha ammazzato, se può dire. Sì, se forse quel vecchio te merda si rendesse utile... Ecco. Ma... ma ha rotto. Eh, ma ammazza una volta. Stiamo sulla difensiva. Ma, cioè, mi sono briagato. No, non ce posso credere. Fatta una cazzata. Niente, ragazzi. O vinciamo... Ma proprio... All'ultimo, eh. Oppure c'è... Ma tieni l'occupato. Oh, niente, eh. Ecco. Vaffanculo, lo sapevo, no? Niente, ragazzi. Ricaricherò... La partita e... Voi vedrete solo... Diciamo... Quando ritornerò... Nello scontro contro sto stronzo che... Immaginavo che mi avrebbe rotto il culo. E sto giocando normale. Ah, però... Oh, non ce leva i co... Attenzione. No, no, non me sa... Non c'è... Bisogno di ricaricare la partita. Cioè, no, di non ricaricare la partita. Ma di tagliare il video. Perché... Siamo... Vicini a... E me sa che... Eh... Sulla collina. Quella seconda parte dello scontro, questa è. Scendiamo da cavallo. Eh sì, infatti c'è mezza vita. Io però... Volevo riniziare proprio da cavo. Cioè... Proprio da meccanica Souls... Grande stile. E schiva pure lui, oh. Bello grosso. Però schiva. Ecco. Beh, me schiva due volte. Eh, ma pure estordito. Dovrei provare a cosa? A... Parare il colpo. Se ovviamente non sta carica così. Perché... Uh, 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 uh. Ecco, lo sapevo. Mena forte. Mena forte. Mo' via. Uh, cazzo è tu. Sta cosa prima non me l'ha fatta. Beh, siamo vicini alla vittoria, ragazzi, eh. Non vorrei parlare troppo presto, però... Ci abbiamo molte risorse per recuperare la vita. E perché mi estordisci? Oh, stronzo. No, oh. Vai, mo' è na... Uh, non è morto ancora. Morto. Vittoria. Bene così. Brutto bastardo. Te abbiamo fatta la festa, eh. Ragazzi. Abbiamo vinto. Non me giudicate per quella sconfitta, ma... Sono le prime volte che giochiamo, quindi... Eh, vedi, pure lui mi dice... Dobbiamo migliorare. Eh, grazie. Non un uccidio, se non vuole vivere l'ora. Ma più di questo, dopo. Prendi la testa di griffin. Uh, gli stacchiamo la testa. Vabbè, ben brutti, però. Prendi un trofeo. Gli voglio staccare la testa. Trofeo di grifone e reliquia. Bello. Mutag... Mutaggine di grifone. Alchimia, eh. Oggetti utili. Oggetto comune. Carne cruda. Polvere infusa. Cervello di mostro. Artiglio di mostro. Vabbè, tutti, diciamo, materiali per l'alchimia. Per... Creare delle pozioni. Degli intrud... Ah, vedi oh. Che cortelletto. L'opinel. Bene, vediamo se... Se vede la testa... Ah, levata. Usalo per potenziare le tue abilità. O creare una speciale pozione nota come... Decotto di mutaggine. Sì. Se vede proprio la capoccia... Squartata. No, è attaccata sul cavallo. Che spettacolo. No. Che spettacolo. Eh, qui sicuramente, ragazzi, farò un taglio perché... È abbastanza lontano. Anzi, a meno che... Vediamo un po' una cosa. Se sono bravi. Sì, sono abbastanza bravi, dai. Mo' andiamo a prendere la nostra ricompensa. E niente. E poi ci salutiamo. Ah, cornuto. Ho ammazzato il mostro, eh. E facci tanto lo spavardo. Ho ammazzato il mostro. Grissi. Sanguto. Perché questo dice... Qua qualcosa mi va. 15 frustate 50 sfumature di grigio Questa è Mr. Gray Mochiamo così Anche se Mr. Gray saremo più noi Guarda che bella tinta dei capelli Oh, abbiamo ammazzato il grifone, capo Il tuo turno, dove andò? A Vizima Ma sei stronzo, non ci aveva detto che stava qua vicino Per farci ammazzare il grifone Che infame Certo Accetti i sordi, scusa Ci mancherebbe Ho fatto una cosa T'ho fatto un favore Mi dai i sordi Oddio, sentite intanto questo Stanno affussando No, si sente solo Ah beh, si Qua dentro Non ce tengo a entrare Ehm, va bene ragazzi Ehm, per questo episodio è tutto Abbiamo ucciso il grifone Anche se Siamo caduti La prima volta sotto i 6 colpi Ehm, spero di Anzi Devo per forza Ehm, migliorare nel sistema di combattimento A Insomma, capirlo A Sfruttarlo Al meglio Capire quali sono i punti deboli di un mostro Quando schivare Il tempismo Quindi penso Mi possiate capire Che le prime volte Ehm, è un po' così Vabbè Abbiamo finito Arrivederci al prossimo episodio Bella a tutti ragazzi Dal vostro The Next Mad Gamer